Come sfruttare i GPTs per quelle nuove funzioni di chat GPT4 introdotte inizio novembre 2023 scusate per la voce andiamo per cui ne explod e oggi voglio analizzare il Tech Support Advisor che è una sorta di aiutante per quanto riguarda tutte le questioni relative alle tecnologie e all'informatica per cui ad esempio andiamo a selezionarlo e stiamo subito all'interno qui possiamo chiedere tutto ciò che è tecnico per cui ad esempio già abbiamo dei prompt predefiniti inglesi come ad esempio guidami nell'installazione di una stampante oppure come convertire un Google Doc in un PDF ancora la migliore via diciamo per avviare diciamo avviare un nuovo smartphone eccetera eccetera io qui vado a chiedergli indicami per cui scrivo in italiano indicami tutti i passaggi per installare una nuova scheda video su un PC desktop ok vediamo che fa anche qui ho sbagliato anche a scrivere però lui diciamo chat GPT non ne fa un problema per cui installare la nuova scheda video o GPU su un PCD è un processo piuttosto diretto ma richiede attenzione perché io l'acquisto della GPU adatta anche con il fattore di forma l'alimentazione e gli slot disponibili per cui ci dà anche diciamo delle accortezze per cui prendere ad esempio anche se adesso sono tutti i PCI Express ma quando in passato c'era anche la differenza tra GP e PCI Express contare il fattore di forma l'alimentazione quindi l'alimentatore in potenza di impatto e poi gli slot disponibili e PCI Express X16 che deve essere disponibile poi vediamo tutto il testo facciamolo scrivere su questi GPT non è molto veloce a scrivere rispetto a quando usiamo certi GPT 4 per testo diciamo normale per cui senza plugin senza niente e facciamolo diciamo finito adesso è finito più o meno ok ok allora vediamo che c'è scritto per cui il fattore di forma abbiamo detto spegne il computer scollica tutti i cavi togli il cavo di ambientazione delle selettri indosso un bacio elettro di statico questo ad esempio un bacio elettro di statico io ho diverse scuole di pensiero chi lo mette e chi no come ad esempio io l'ho mai messo e non mi è mai diciamo successo niente perché alla fine ho sempre agito con delle scarpe avendo delle scarpe diciamo con la plastica sotto per cui scarpe sportive oppure casual importante diciamo che andiamo a scaricare le energie elettriche diciamo l'elettricità statica da noi e non dobbiamo indossare oltre da certo all'antistatico anche dell'avviamento che può diciamo con delle fibre un po' più di bassa qualità poi il pannello che ho detto pc desktop non notebook anche se il notebook soltanto su alcuni notebook è possibile è possibile cambiare la scheda video dimozione la vecchia gpu per cui install i driver scolto le alimentazioni muore la vecchia scheda controllo stradord fpc express che deve essere libero e pulito per cui anche qui pulito perché se abbiamo accumulato polvere è meglio fare una pulizia con un pannetto diciamo liscio per cui fanno diciamo anche una pezzetta oppure il conto fioc per cui diciamo qualcosa non lasci residui e deve essere pulito prima di installare la nuova scheda video installare la nuova gpu che la nuova scheda video e ci dà diciamo anche indicazione dello slot anche se qui diciamo ci parla di fattore di forma però qui ci parla letteralmente pc express poi anche qui vista la scheda con le video che collega l'alimentazione perché le schede video soprattutto quelle di vanno mai quasi tutte iniziano di un'alimentazione aggiuntiva oltre a quella della pc express ti metti il pannello laterale ricollega i cavi accendi il pc ok state in ovidraved fare i test anche dei benchmark eccetera qui ci dà diciamo anche dei consigli sulla ventilazione per cui oltre diciamo alla ventola propria della scheda video all'evento diciamo della scheda video anche avere una buona alimentazione su tutto il case all'interno del case e aggiornamenti dei driver per migliori prestazioni e compatibilità per cui molto completo e non siamo neanche usciti da certi gpt per cui non siamo andati su ananzulla o altri siti relativi all'hardware e relativi all'informatica per cui qui abbiamo già tutto tutto semplice potrei anche vediamo se me le fa puoi aggiungere anche delle immagini vediamo se è possibile anche delle immagini dei vari passaggi dei passaggi non credo però vediamo un po' scusate è abbastanza raffreddato ma no attualmente non posso creare forne immagini specifiche di passaggi descritti ma ci dice anche di ricercare su internet proprio delle parole le chiave specifiche anche su youtube vediamo che ci dice più oppure siti web tecnologia come anche la tecla la data eccetera sono diciamo quelli internazionali tom salvare crada le annand tech come anche i comuniti e manuali del prodotto eccetera per cui c'è anche diciamo dei suggerimenti perché non può diciamo creare poter prendere delle immagini ad esempio devo prendere delle immagini e se questo gpt che è realizzato da operativi non è realizzato da me o da altri avessi incluso all'interno ad esempio bing e ci poteva far trovare delle immagini possiamo sperimentare andando a crearci il nostro gpt con mygpt e andandoci a creare un po' il nostro create gpt e andando a selezionare anche bing personalizzando tutti il gpt e cercare di sopperire alle mancanze attuali del tech support advisor è già un qualcosa in più che abbiamo all'interno c'è tgpd per tutte le volte che dobbiamo affrontare diciamo per chi è più maliziato come me diciamo mi sono appassionato di tecnologie da tantissime anni è indifferente però chi si trova diciamo all'inizio con la tecnologia è un grosso aiuto per cui chat gpt non solo come piattaforma di intelligenza artificiale generativa testuale di immagini anche analisi di video eccetera ma anche uno strumento aggiuntivo di supporto alle tecnologie io sono Alberto Santoli grazie ai prossimi tutorial